Siamo molto contenti di consegnare alla nostra comunità, ma soprattutto ai pazienti, una menza totalmente rinnovata sia da un punto di vista strutturale che tecnologico, che migliorerà sicuramente le prestazioni innanzitutto ai pazienti. Questo è solo l'inizio di un percorso che ormai abbiamo disegnato, che è quello di portare a una riqualificazione strutturale di tutto l'ospedale, che ne ha necessità, per cercare di rendere questa struttura eccellente non solo in termini professionali, in termini tecnologici o in termini di ricerca, ma soprattutto rendere l'eccellente anche nel comfort alberghiero. Un ospedale, una mensa, una cucina significa la dimensione umana dell'ospedale stesso. La cucina fa parte della cura, perché generalmente insieme alla cura dei medici, degli infermieri, c'è anche la cura dell'alimentazione. Questo è un momento straordinario per il Paese e per la Regione. L'Europa sta dando dei soldi proprio per una delle sue misure, saranno gli investimenti strutturali che qualificheranno, riqualificheranno tutti gli ospedali della Regione e noi vogliamo essere presenti con una progettazione avanzata ed essere protagonisti per consegnare al territorio e alla Sicilia un ospedale di eccellenza.